Siamo qua, facciamo come Jimmy Yune del Station Notizia. Allora ragazzi, c'è una bellissima mostra, si studia, però mancano gli scaldamenti, è vero? Sì. Da quanto tempo che mancano? Più di un mese. Più di un mese, per rispetto alla bravi, se non facciamo sentire i ragazzi, e guardate come stanno combinati qua. Si vede anche a farlo apposta, non è stato organizzato. Ecco, non sono Jimmy Yune, però la situazione è questa. Bisogna un po' fare qualcosa.